A pochi giorni dal debutto degli Zombie d'inverno, diretto da Emanuele Mattana, un altro regista Varesino lancia un'opera legata al territorio. Lui è Ivan Brusa e la sua tragica media si intitola Faccio una strage al 75%. Questo film è una tragica media, parla di questo ragazzo interpretato da Dele Appellizzoni, un ragazzo di 30 anni che si ritrova in una situazione un po' tragicomica, una tragica media in un viaggio strano, un viaggio pazzo, non aspettatevi il solito film convenzionale ma appunto una tragica media molto fuori di testa. Come accennato in questo film fuori dagli schemi c'è tanto Varesotto, sia nel cast con Nicola Crucini o Roberta Nicosia e Stefano Galli, sia nelle location tra Saronno, Azzate e non solo. Se volete vedere un film divertente che può intrattenere con anche appunto scampoli di nostro territorio e appunto un film che si differenzia un po' anche da certe commedie tipiche italiane che non c'entrano niente con quello che faccio io. Insomma, buttatevi su questo film. Faccio la strage al 75%, come detto, su Amazon Prime Video o anche su Chili. Grazie a tutti, poi al limite mi dite se vi è piaciuto o no. Grazie!